Le società partecipate con i comuni in Italia sono causa di fallimenti, indebitamento e perdita di posti di lavoro. Al contrario la Germania dimostra di mantenere saldo il controllo dei propri bilanci sia nella cosa pubblica che in quella privata. È un'osservazione che muove il segretario regionale CISL Maurizio Spina in un giorno istituito come simbolo della lotta al lavoro e al riottenimento di diritti inalienabili per la società. Oggi tutto il gruppo dirigente ha una giornata di lavoro, una giornata di lavoro per il lavoro. Discuteremo di ciò che accade sui territori, nelle fabbriche, nelle difese dei posti di lavoro, nella regione Bruzzo e Molise e a livello nazionale. Nella nostra regione e anche nella regione Molise c'è il grande problema delle partecipate che sono tutte in deficit. La Germania ha mille aziende partecipate, tutte in attivo e servizi che funzionano. Noi ce ne abbiamo 7.500 e non funziona. La riforma dei trasporti quando la facciamo? Abbiamo detto ad Alfonso che il documento contenuto sulla programmazione va bene, però bisogna attuarlo questa volta le cose che abbiamo deciso. Non abbiamo più tempo. Più lavoro, meno precarietà e tutele crescenti sono i punti focali delle proposte dei sindacati, anche se, ultimamente, si registra una spaccatura interna. Spiega Maurizio Spina, non ci allineeremo con proposte che non vanno a tutela dei lavoratori. E da qui parte l'outout al segretario nazionale CGL Susanna Camusso. Faremo iniziativa di pressione su ogni argomento. Incontreremo il governo il 27, incontreremo i capigruppo della Camera e del Senato, invieremo le nostre proposte. Faremo il 5, una grande iniziativa unitaria con i pensionati, faremo una grande iniziativa unitaria sul pubblico impiego il giorno 9. E diciamo alla Camusso, noi siamo unitari, in una fase così difficile bisogna essere, sugli obiettivi condivisi lavoriamo insieme. Ma sugli obiettivi in cui lei pensa che Landini abbia ragione, deve sapere che la Camusso con Landini, la Cisla e la Will non hanno poco a che fare. E quindi o lei sceglie noi o sceglie quello che lei ritiene più opportuno. Noi preferiremmo che scegliesse CGL e Will e possiamo, come faremo, come stiamo facendo, fare iniziative unitarie.